Oh mia adorata, la nostra spedizione prosegue tra mille emozioni. La natura stessa qui è colma di ricchezze inestimabili per chi è in grado di comprenderne il valore. Infatti, sto per entrare negli annali della biologia. Sono vicino alla scoperta di una nuova specie floreale, alla cui bellizza farò dono del tuo nome. E' buona norma proteggere le cose preziose con sistemi di sicurezza. Noi di Reale Mutua ti assicuriamo al meglio, ma a proteggerti pensaci anche tu. Chiedici qualche consiglio o vai su realmenteprotetti.it